niente non piu piu si piu fattu devo chiamare steve vieni a prendermi va bene arrivo no qui c'è la mamma non posso passare cosa faccio? cosa faccio? ci sono problemi? devo andare al voglio mi puoi aiutare? non so volare così lontano mister camion non mi puoi aiutare ad andare nel bagno? no non so mica volare giusto volare signor aereo mi puoi aiutare? certo tanto su steve sono qui steve andiamo e i vestiti come li portiamo? non preoccuparti linda ci inventeremo qualcosa idea usiamo questa cesta linda aiutami subito subito perfetto hai preso i vestiti no? credevo che li avessi presi tu steve steve attenzione stropicci tutto linda linda prendi leghiamolo all'aereo perfetto è tutto pronto pronti? sì c'è una mano attenzione mi sono ricordata devo stirare che ci fanno gli asciugamani sul pavimento? dov'è la cesta? vado a cercarla